Presidi più frequenti e maggior presenza degli agenti sul territorio per il periodo di ferragosto è l'obiettivo della Polizia Locale di Andria che nei giorni annunciati come quelli più intensi delle ferie agostane intensificherà i controlli in città e in tutto l'agro federiciano con particolare riferimento a Monte Grosso e Castel del Monte. Il servizio di vigilanza si concentrerà nelle zone maggiormente frequentate per garantire la sicurezza e il monitoraggio del territorio in corrispondenza dei siti culturali cittadini, proprio il maniero federiciano che resterà aperto a turisti e visitatori per tutto il 15 agosto sarà tra i punti di maggiore attenzione per la Polizia Locale di concerto con l'amministrazione comunale per garantire la sicurezza stradale e la corretta viabilità lungo le strade di collegamento presso l'area di Monte Grosso. Invece verranno aggiunti otto agenti durante le celebrazioni di Santa Maria Assunta e San Isidoro prevista alta affluenza per la festa patronale della borgata federiciana un ferragosto anche all'insegna della cultura con turisti e residenti che potranno contare sui controlli della Polizia Locale.